Come vanno i consumi in questo momento per Game Tech? Allora, i consumi stanno procedendo abbastanza bene, dopo ancora qualche paura generale dovuta soprattutto ai primi mesi invernali, la gente sta uscendo per comprare. Ok, e comprano anche regali? Sì, comprano una piccola percentuale di persone che già si sta muovendo per comprare regali di Natale, molta gente viene più che altro a chiedere pezzi per la letterina Babbo Natale, per i futuri acquisti, però già abbiamo qualcuno che si sta anticipando sui tempi. Secondo lei perché hanno timore di nuove restrizioni, di un nuovo lockdown o semplicemente perché sono previdenti? Allora, sicuramente un minimo di timore c'è, le notizie stanno circolando, si parla di paesi che fanno lockdown mirati, quindi le nuove varianti e tutto quanto fanno comunque un minimo di movimento, però attualmente credo che sia semplicemente ancora previdenza, semplicemente non volersi ritrovare l'ultimo giorno prenatale a dover correre per fare i regali. Ok, noi ci troviamo qui in un angolo di negozio in cui c'è il divertimento materiale, quello classico delle costruzioni e poi c'è un divertimento immateriale, vogliamo avvicinarci che è poi quello dei DVD e poi c'è una delle novità degli ultimi mesi, dell'ultimo periodo. Esatto, ce ne parli per favore, andiamolo a vedere, c'è il monopattino. Monopattini e biciclette elettriche sono comunque la moda del momento indubbiamente, quello di cui si parla di più, molta gente sta comprando biciclette anche per utilizzare al posto di un motorino o come passatempo, sicuramente andavano più forti nel momento in cui lo Stato offriva incentivi, quello è chiaro, però ancora c'è molta attenzione, molto interesse, la gente continua a venire, le vede, se le studia per bene, ovviamente sono spese importanti, quindi essendo anche qualcosa di nuovo agli occhi della gente, molti arrivano e si fanno le prime idee in vista di possibili acquisti. Ok, pensate di magari poter fare una promozione su questi articoli per Natale? Allora, in generale la catena Game Tech si occupa di fare promozioni, offerte, pensate specificatamente per il periodo natalizio, non le saprei dire allo stato attuale quali possibili offerte ci saranno nelle ultime settimane dell'anno? Comunque sempre viva Natale! Sempre e comunque, speriamo un Natale senza lockdown! Buona serata! Arrivederci! Grazie!